Ciao ragazzi in questo video parleremo di Amazon FBA come vendere su Amazon e per farlo utilizzeremo il software di Helium 10 Cerebro insomma andremo a vedere come trovare la Keyword Master List quindi tutte le liste di keyword delle varie parole chiave che dovremmo mettere nei vari annunci che andremo a fare su Amazon per fare per bene il nostro listing del prodotto con questo che ho detto intendo che andremo a fare una lista di parole chiave che ci serviranno da mettere all'interno della nostra pagina prodotto del prodotto che andiamo a vendere all'interno di Amazon in modo tale da trovare quelle parole che sono tra le più cercate su Amazon per quel determinato prodotto così che sia molto più facile da trovare da parte di tutti i vari clienti possibili quindi in pratica serve per fare più vendite dato che il nostro prodotto sarà più facile da trovare perché sarà rancato in posizioni più elevate perché ovviamente con l'algoritmo A9 che controlla Amazon più noi abbiamo all'interno della pagina prodotto quindi all'interno del titolo, della descrizione, dei bullet point del nostro prodotto determinate parole chiave che sono tra le più cercate più Amazon in qualche modo ci sponsorizzerà, in qualche modo ci farà trovare da appunto tutti i potenziali clienti quindi adesso siamo all'interno di Lyon10, questo software è il migliore per creare il nostro e-commerce all'interno di Amazon sicuramente è quello che ha più tool, più strumenti che possiamo utilizzare per creare i nostri prodotti, per farli vendere il più possibile poi c'è anche Jungle Scout che si è anche utilizzato però ha delle funzionalità in meno quindi quello che vi consiglio è di utilizzare Lyon10 qui sotto in descrizione trovate anche il mio link affiliato di Lyon10 quindi lo potete acquistare tramite il link per avere il 50% di sconto il primo mese utilizzando il codice cloud50 al momento del checkout una volta utilizzato quel codice sconto potete utilizzare il codice anche cloud10 per avere il 10% di sconto ogni mese quindi per trovare questa lista di keyword andiamo adesso sul tool cerebro e in pratica adesso ci richiederà degli asin prodotto per trovare questi asin possiamo fare un esempio del correttore posturale che è uno dei prodotti più venduti su Amazon Italia e quindi lo andremo a cercare e attraverso questa ricerca andremo ad utilizzare l'estensione di Chrome di Lyon10 e poi il tool X-Ray che andrà ad analizzare tutta questa prima pagina di prodotti e qui sotto in descrizione trovate anche l'estensione di Chrome sempre tramite il mio link affiliato e questa è totalmente gratuita quindi potete tranquillamente scaricarla e poi potete analizzare tutte le pagine prodotto che volete come vedete Lyon10 ci fornirà i vari prodotti andremo direi a togliere tutti quei prodotti che sono sponsorizzati quindi dove c'è SP davanti e quindi qua adesso andiamo sul cestino e togliamo questi primi quattro prodotti sponsorizzati perché ovviamente i sponsorizzati non sono quelli che fatturano di più quindi li andiamo sicuramente a togliere perché potrebbero andare a toglierci le keyword che sono realmente quelle più profittabili e quelle principali poi direi anche di ordinare il tutto per revenue quindi per fatturato e poi andiamo a prendere tutte quelle keyword quindi adesso togliamo anche questi scusate non per keyword andiamo a prendere i vari asin come abbiamo detto quindi il primo e lo mettiamo qui su cerebro poi andiamo a prendere il secondo il terzo poi anche il quarto e il quinto possiamo anche andare a prendere più asin però già 5 asin sono sufficienti per trovare le nostre parole chiave ricordatevi sempre di mettere amazon.it se vendete su questo marketplace altrimenti ovviamente mettete quello che fa riferimento a dove vendete e poi dovete semplicemente cliccare su get keyword niente di più semplice adesso andrà ad analizzare tutte le varie parole chiave di questi asin e quindi di questi prodotti che abbiamo preso e come vedete qua avremo tutta questa lista che è molto grande adesso qui si possono vedere sono 3800 parole chiave quindi ne trovate veramente tante le possiamo utilizzare quantomeno la maggior parte quelle che sono le migliori adesso andiamo a vedere come però prima mi vorrei soffermare anche su questo frequently bought together quindi le cose che sono acquistate frequentemente con il correttore posturale con questi asin in particolare e quindi sono questi i prodotti che sono aggiunti al carrello insieme al correttore posturale poi si possono vedere anche più prodotti ancora però questa è una schermata fondamentale perché ci può servire poi per creare ad esempio un bundle e andare a competere più facilmente con appunto coloro che sono i nostri competitor e che vendono il nostro stesso prodotto perché se andiamo ad aggiungere anche un qualcosa in più più facilmente la gente acquisterà il nostro prodotto piuttosto che quelli della concorrenza ad ogni modo adesso andiamo a vedere esattamente come trovare queste keyword quindi adesso le avrà un poco raccolte a casaccio e noi invece andremo ad ordinarle per search volume quindi per volume di ricerca e ovviamente a questo punto possiamo semplicemente andare qui sopra e fare export e le esportiamo su un file CSV oppure Excel ecco in questo grande file che comprende tutte le keyword raggruppate dobbiamo anche andare a fare un'analisi perché ovviamente regalo donne in qualche modo ci potrebbe anche stare però cintura uomo non credo centri niente quindi la possiamo anche andare ad eliminare insomma diciamo che correttore posturale è la keyword principale quindi nel titolo, nella descrizione, nei bullet point e nei termini di ricerca sarà questo ovviamente questa la parola principale quindi andremo a mettere magari correttore posturale poi ovviamente anche questi non c'entrano niente però già cervicale ci può centrare qualcosa insomma si potrebbe aggiungere ad esempio nei termini di ricerca poi anche fascia posturale spalle schiena questa sicuramente è una keyword che è appunto necessaria da mettere magari subito dopo correttore posturale e così via poi per tutte le parole quindi le andate ad analizzare e trovate quelle che hanno un'affinità che c'entrano qualcosa con il vostro prodotto ad esempio anche qua abbiamo fascia lombare supporto schiena appunto è così per tutte le parole che hanno un volume di ricerca molto alto quindi un'altra cosa che si può fare con ilium 10 poi invece di fare esporta come file excel possiamo anche esportare tutto su frankenstein che è un altro tool, un altro strumento che ci fornisce proprio questo software e qui in pratica ci elencherà tutte le parole chiave che ha trovato e possiamo rimuovere i duplicati quindi una funzione sicuramente che ci servirà dato che nella pagina prodotto non possiamo mettere chissà quanti duplicati ovviamente ogni tanto ci vanno anche messi perché fa arrancare ancora di più il tutto però è bene non esagerare e poi qui potete impostarlo come volete ovviamente già è preimpostato in un certo modo direi di lasciarlo così quindi rimuove i duplicati e poi tutte le parole che sono maiuscole le converte in minuscole già va bene così e poi se volete appunto rimuovere le singole lettere oppure le parole singole volete solamente delle frasi insomma si può fare un poco come preferite e poi una cosa che vi consiglio anche rimuovere eventuali asin perché diciamo non sono proprio contemplati all'interno di amazon vi potrebbero fare dei problemi se mettete degli asin di prodotti che non sono il vostro poi processate il tutto e qui praticamente c'è tutta questa lista enorme potete adesso andare qui sotto e poi o ve la salvate oppure potete andare su scribbles che è un altro tool ancora di Helium 10 poi qui sempre selezionate amazon.it e poi fate applica e quindi potete fare il tutto o manualmente quindi andando a creare il vostro titolo con il file appunto che ha generato prima oppure ancora potete utilizzare questa funzione e vi dice quando avete già utilizzato una parola semplicemente scribbles serve a questo ad esempio qui abbiamo regalo se noi andiamo a scrivere regalo questo verrà tagliato e ci verrà scritto qui sopra che l'abbiamo utilizzato una volta quindi serve semplicemente per fare il tutto in modo un po' più ordinato per farci capire cosa abbiamo già utilizzato e cosa no quindi cosa possiamo già utilizzare poi successivamente questo ovviamente sarà il nostro titolo i bullet point sarebbero ad esempio andiamo sul nostro prodotto facciamo finta che questo qui è il nostro prodotto i bullet point sarebbero quelli che compaiono qui quindi dopo l'immagine e praticamente su scribbles quindi possiamo mettere i vari le funzionalità principali in italiano sarebbe numero 1, 2, 3 e poi anche 4 e 5 e poi ovviamente possiamo anche mettere la nostra descrizione i nostri termini di ricerca veramente molto semplice quindi se volete acquistare il Lium10 lo potete fare con il link affiliato che trovate qui sotto in descrizione anche nei commenti forse lo metterò e così avrete il 50% di sconto il primo mese utilizzando il codice cloud50 oppure se volete il 10% di sconto ogni mese potete utilizzare cloud10 e vi dico che basta utilizzare il piano platinum non c'è bisogno di andare ad acquistare il diamond soprattutto se siete agli inizi e in descrizione trovate anche i miei corsi gratuiti a pagamento su come creare il proprio business su Amazon con questo tutorial step by step su come creare il proprio business su Amazon FBA direi che è tutto quindi potete seguirmi anche su Instagram attivate la campanella delle notifiche iscrivetevi al canale per altri video di questo tipo e anche in generale su come fare soldi su internet e con questo noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti